Quello che verrà è solo una promessa è un film dei Flatform, una collaborazione tra due registi che, al di là del nome che hanno scelto, Flatform, sono italiani, con i quali lo schermo dell'arte ha già collaborato molte volte, abbiamo fatto vedere diversi i loro film nelle edizioni precedenti del festival. In particolare questo film si concentra su un luogo molto remoto, sull'isola di Funafuti, nell'arcipelago di Tuvalu, nel sud pacifico. È un luogo assolutamente peculiare in quanto qui le conseguenze del riscaldamento globale già da diversi anni si stanno manifestando in maniera molto importante, con gravi conseguenze sulla comunità che abita queste isole. Pensate che già nel 2008 uno studio scientifico aveva previsto che Tuvalu sarebbe stata la prima nazione del pianeta, perché Tuvalu è una nazione a tutti gli effetti, a subire una migrazione totale della propria popolazione a causa del cambiamento climatico. Ovvero queste isole sarebbero diventate così inospitali, così presto nei decenni successivi che l'intera popolazione sarebbe dovuta essere dislocata da qualche altra parte. Questo è dovuto principalmente a un fenomeno, che è quello che viene osservato dai platform, nel quale alcune volte l'anno, a causa del riscaldamento dell'acqua del mare, l'acqua sale attraverso le porosità del terreno e allaga dall'interno, da sotto, le isole di Tuvalu, in particolare l'isola di Funafuti, facendo sì che dopo vari giorni di allagamenti, una volta ritiratasi, lasci nei sedimenti il sale, che è proprio dell'acqua marina, che quindi rende le terre incoltivabili e pertanto alla lunga inospitali. I platform hanno deciso di lavorare a partire da questo fenomeno, girando a Funafuti insieme alla popolazione locale e usando una tecnica che in gergo cinematografico si chiama pianosequenza. Il pianosequenza è quando un regista sceglie di girare una scena senza mai cambiare punto di vista. Come vedrete, la telecamera usata dai platform sembra essere una sola, non c'è mai uno stacco. In realtà i platform sono famosi per lavorare con il linguaggio del cinema, facendoci credere delle cose che in realtà non sono vere. Infatti presto vi accorgerete che in questo pianosequenza c'è un'alternanza quasi magica tra i momenti in cui l'isola è allagata dall'acqua e i momenti in cui l'isola invece è all'asciutto, vive il periodo di siccità. E questa tecnica cinematografica che i platform usano in maniera così potente rende davvero il senso di sospensione, il senso di attesa che la popolazione di Tuvalu sta vivendo in questo momento.